Ciao a tutti, questo video è stato realizzato usando prevalentemente il telefonino, quindi la qualità del suono non è il massimo, ma abbiamo cercato comunque di ottenere il miglior risultato possibile. Vi presento tutti quelli che hanno collaborato alla sua realizzazione, prima di tutto le coliste, e devo leggere i loro nomi, se no non li ricordo. Dal Regno Unito abbiamo Ola Brown, Leonie Smith, Sonia Lingo Clark e Sapphire Sings, spero di aver pronunciato bene. Poi abbiamo la voce solista, lei è una sarda doc, anche se trapiantato ormai da anni in UK, Manola Bandino. Io faccio giusto una piccola parte di chitarra, mi sono occupato prevalentemente del montaggio e mixaggio audio-video. Hanno suonato alle percussioni Enriquez Sogio da Tempio, alla batteria, anche se di provenienza partenopea, ora vi vi assorso Andrea Capuozzo, al basso Paolo Virdis, al piano tastiere Daniele Ziranu, sempre da Sassari, e al sax Alessandro Tomei da Roma. Buona visione! Ciao a tutti! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti